I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio tesi a garantire l'osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza prodotti, connesso alla grave emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sottoposto a sequestro amministrativo circa 28.000 mascherine nei confronti di un'azienda operante a Palermo. Le Fiamme Gialle, nel ricostruire le filiere di importazione e commercializzazione, hanno verificato che le mascherine sequestrate erano state poste in vendita in violazione delle disposizioni, di cui alla normativa europea sulla sicurezza dei prodotti in materia di dispositivi di protezione individuale. Per approfondire questa notizia leggi l'articolo su vivicentro.it Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.